Benvenuti nel mondo degli orologi, ER-SWV. ER-SWV è un marchio svizzero di orologi che ha una lunga tradizione nella produzione di orologi da polso di alta qualità. Tutti gli orologi ER-SWV sono realizzati con materiali di alta qualità e utilizzano movimenti svizzeri di precisione, il che garantisce una grande affidabilità e durata nel tempo. L'innovazione è sempre stata al centro della filosofia di ER-SWV, che ha continuato a sviluppare nuovi modelli di orologi nel corso degli anni. La reputazione di eccellenza della marca svizzera è stata costruita grazie alla grande attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati. Gli orologi ER-SWV sono il risultato di una combinazione perfetta tra tecnologia e design. L'azienda svizzera utilizza solo i migliori materiali per la produzione dei suoi orologi, tra cui acciaio inossidabile, titanio, oro e pelle di alta qualità. Ma l'estetica non è l'unica cosa che conta per ER-SWV, la precisione è altrettanto importante. Per questo motivo, l'azienda utilizza solo movimenti svizzeri di precisione, che assicurano una grande affidabilità e precisione nel tempo. Ma gli orologi ER-SWV non sono solo per i piloti. Tutti gli orologi ER-SWV sono realizzati con la massima attenzione ai dettagli e sono il risultato di un'attenta progettazione e di una grande maestria artigianale. La Svizzera è da sempre il centro mondiale dell'orologeria di alta qualità, e ER-SWV fa parte di questa grande tradizione. L'azienda svizzera è particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e utilizza solo materiali ecologici e sostenibili nella produzione dei suoi orologi. Inoltre, gli orologi ER-SWV sono realizzati con una grande attenzione ai dettagli e alla precisione, il che li rende non solo belli da vedere, ma anche molto affidabili. I clienti che scelgono un orologio ER-SWV sanno di poter contare su un prodotto di altissima qualità, che li accompagnerà per molti anni. grazie a tutti! i